Lo chiudete per bene Accuratamente Così Così Lo chiudete Lo sigillate Aspettate che la pressione del pacco Ci sia schiarita Guardate se attorno ci sono figure Alquanto strane Coppigliate E lo scappato arco dio Ma perché si è buttato Si è buttato dalla moto Ma che hai fatto Guardate che ti vado a licenziare No ma di licenziare Si si Aieieee Oh ma è giusto Ai ammazzo Ma che sta succedendo Oh E che Ma stai tranquillo Non ti preoccupare Siamo in chill Ma stai uguale Quello è la vero Quello è del più Già che sto Ancora Ma giusto Facci il mero meccanico Io no Mannaggia Ma no Antonio Ero fuga Antonio Nooo Antonio Antonio Ero fuga Antonio 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 Ero fuga Antonio Ero fuga Ero fuga Ero fuga Ero fuga Ero fuga o per gabri grazie mille ciao ciao bello stai ciao marco di questa scena è una ripetuta 3 4 volte bu non lo so mannaggia maronna mannaggia o cazzo ma vi trutto cazzo ma vi trutto cazzo ma vi trutto cazzo ma vi trutto cazzo guardate di coglione non vi porto più gta gioco solo offline ma avete rotto i coglioni ma è fake oppure no che colore lo vuoi che colore lo vuoi che cazzo di colore lo vuoi la moto mi dici viola blu viola blu ci vediamo ok un bacio ciao ciao gianet ciao bello oh maronna mia ma ci sono scendiamo oh maronna oh maronna ora Piano piano Non si bravo Oh iu Nooo aiutoooooo Non lo sapevi Non lo sapevi Non lo sapevi Che ci facevi Che ci facevi Non lo sapevi 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 Ti sei svuotato? Si si Eh si Non hai bagno No no Oh cazzo Oh Oh Tiens 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 Alla prossima Vale uo, vale uo, vale uo, vale uo, vale uo, vale uo, vale uo. Oh, oddio. Oh, oddio, che schifo. Oh.